Allora abbiamo ancora il mister Ruffini Marcello, una sconfitta che non dovrebbe compromettere il vostro cammino, però non era preventivata. La vittoria poteva darci la sicurezza matematica, con questa sconfitta si mette tutto in gioco, però noi ci crediamo. Oggi è andata così, avevamo un po' la partita sulle gambe di domenica perché è una partita molto ravvicinata, poi secondo me abbiamo peccato un po' di presunzione. Comunque potevamo chiuderla, questo è un campo piccolo, ci sono azioni rocambolesche da una parte e dall'altra, potevamo fare due golle sul 2-2, poi dopo il contropiede ci hanno fregato. E il calcio è questo comunque, è il bello del torno della montagna. Hai usato un bel vocabolo, presunzione, in effetti si è visto anche in campo. Oggi sì, forse eravamo sicuri dei nostri mezzi, comunque meglio adesso che dopo. In modo che sei sempre ottimista Marcello? Certo, certo, vabbè, quello sempre, bisogna. Il vero montanare è questo qua. Esatto, non si molla mai. Grazie Marcello, grazie. Buonasera, buonasera.